Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Allora, accetto, nel dubbio accetto Si, buon divertimento, allora Allora, nuovo gioco Mamma mia, facciamo facci Prologo Questi siamo noi, stiamo morendo Bello Allora, innanzitutto, scusami Impostazioni Musica Qualità Medio Perché comunque un gioco per cellulare, che mi sembra la qualità alta Usante di linguaggio A posto Ok ragazzi, allora Ma fammi prima vedere una cosa Ok Ok Comodo tutto giocare sull'emulatore Così puoi giocare con joystick Però tutte le volte devi segnare i tasti Ok Vediamo pure questo Questo sarebbe ricaricare Eh sì, quindi Ok Rompere Cos'è che devo fare? Devo rompere la griglia Ma dove siamo? C'è domanda di un milione Se Se vedete che Giustamente la voce si vede Se sentite che ho la voce da trans Non è che Non vi nascono niente Mi sento un po' di raffreddore Leggero Mi sto curando con No, mi dissocio Mi sto curando Ma che cazzo Però voi chissà quando vedrete questo video Quindi Crapaccio che sarò già Come gli è guarito Eh Eh La porta è chiusa Non mi dire Ma che cazzo devo fare qua? Scusami No, i reni No Ma questo non è un ragno È un essere Geneticamente modificato Portacci tu Amore C'è Ah Tu un attimo Ah Ma è tutto ciò Siamo sotto terra Non muori Non sta morendo di freddo No Sbagliato strada Perché è brutto sto tunnel Così brutto Non l'ho fatto Madonna santa Ah Questo chi è? Ah ma da questo sono io Mai Morice Sembra che Penso si potesse rompere Ma perché non voti la Morice Buonasera Si può? Ma Andò se va Andò se va Comunque Morice Questa era mia madre Quando tornavo a casa Con un 4 Cioè Praticamente Mi ricorreva Mamma Gli ho fatti i compiti Questo è un demo gorgone Beh signori Rifiuto Scusa Allora Secondo capitolo Poche ore prima Ma che cazzo siamo? 18 ottobre 1988 542 Stazioni di ricerca Magari fai leggere Devi essere Eminem Vabbè Se volete leggere Stoppate il video La posso saltare Se volete leggere Stoppate il video E io Cioè giustamente Vi ho fatto saltare Sì vabbè Non mi interessa Spendere soldi Per questa puttanata Allora Vabbè Giustamente Io Giustamente io Essendo intelligente Come una pietra Ho saltato il video Vabbè Allora Bello sto computer È proprio Windows 11 Vuoi salvare i dati Progressi Sì Sono avuto un successo Ma è una cosa di giorno Oh Che bello Questa è la lavagna Dalla mia prof di Matematica Non mi ricordo più Apri Che bello Non sono un vampiro Ecco perché non mi specchio Ma bello successo Bello Oggetto collezionabile Stichazzi Allora Mi congelerò Ho bisogno di scaldarmi Fatti una sega Mi dissocio Ho bisogno di scaldarmi Eeeh Ma è dei guanti Non se li può mettere questo Non usa mai guanti Dicendo Non lo so Eh Ovviamente Vabbè Abbasso l'audio del gioco Non vale la pena avere l'audio Signori Questo è ketchup Che cazzo devo fare Questo gioco Io l'ho scoperto Sopra a youtube Cioè non su youtube Sopra a youtube Cioè vabbè Cioè su qualche gameplay Così Cioè di uno Cioè boh Mi è capitato questo gameplay Eh oh mostri che sto gioco Che figo Ma come si chiama Eeeh Eeeh Sembra che è il Vedo cazzo No ma no Ah Sembra facile Ah Eeeh Ok No perché praticamente La comodità Cioè che tu puoi giocare Con un gioco per cellulare Con il joystick Vabbè perché Eeeh 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 Una pezza di leva Una pezza Non so leggere Non sono andata All'elementare Eeeh Poi Eeeh Eeeh Però voi Cioè ripeto Non mi ricordo Se ve l'ho già detto Però c'è Voi chissà quando Lo vedrete Sto video Perché io intanto Mi registro il video Così Eeeh 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 Allora Do cazzo Si esce Eeeh Guardate che belli Questo è Eeeh Eeeh Questo è il nostro personaggio Questo qua non lo so chi è Quindi La tannica Perfetto C'è battaglia Decubante Esplosivo Sembra che Devo stare a tempo Ma non mi dì Ma si canna Poi Vabbè Ma per arrivare Ci metto un quarto d'ora Eeeh Devo fare una riparazione Ok Ho bisogno di una chiave Lo scassini Ma dove cazzo la trovo Sta chiave Eeeh Vabbè Per farmi la faccia Sto video lo chiamerò Siamo in antartile Va Eeeh Vabbè Per farmi la faccia Sto video lo chiamerò Siamo in antartile A posto Eeeh Signori Eeeh Ci vediamo nel prossimo episodio Facciamo così Così Metti mi piace